Amici di WeSport un cordiale saluto, ben trovati al Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto, si gioca la quattordicesima giornata nel campionato di eccellenza calabrese e l'isola di Capo Rizzuto ad ospitare la Palmese. Vediamo la formazione nero-verde scelta per affrontare questa partita, c'è Zampaglione, Giovinazzi, Gomez, Tapia, Novo, Merida, Gandini, Pasini, Militano, Guattara e Reisenberg. Fischia il signore Giuseppe Falvo, sezione di Catanzaro, gli assistenti El Gork e Fortino, entrambi di Rossano, possiamo partire allora con le immagini della prima parte di gara, prima occasione offensiva, quando siamo a 10 minuti dal cronometro, calcio d'angolo messo dentro dalla destra, deviazione, la palla arriva a tuta, la lavora ancora bene, la riesce a rimettere in mezzo per Maesano che trova la girata giusta, quella che manda il pallone in rete, protesta in casa Palmese per il possibile fallo di tuta su Guattara che però non viene ravvisato dal direttore di gara, è 1-0, isola di Capo Rizzuto al quindicesimo, ancora un calcio d'angolo stavolta, Svetta Manzi che di testa non trova oltre il fondo, minuto 25, calcio di punizione di Martino, il pallone messo dentro stavolta, Manzi Svetta sul palo più lontano, si fa rispettare nel gioco aereo e trova il gol del raddoppio, siamo sul 2-0, minuto 33, la Palmese prova a scuotersi con il break di Gandini, il servizio su Militano, calcia il capitano, trova il destro, deviato oltre la traversa in calcio d'angolo, minuto 40, c'è una rimessa laterale per Rappasini, mette il cross sul secondo palo, Militano la controlla col destro, va col mancino, sotto le gambe del portiere, la Palmese prova a rientrare in partita, siamo sul 2-1 al Sant'Antonio, quando il direttore di gara fischia due volte e manda le formazioni negli spogliatoi, le reti da una parte di Maesano e Manzi, dall'altra di Militano, ci consegnano questo parziale, inizia la ripresa, la punizione di Martino, non arriva tutta la deviazione vincente, minuto 66 entrano Dezza e la vecchia, cambia qualcosa la Palmese che cerca al 67esimo il pareggio, l'invio lungo di Zampaglione viene prolungato da Guattara per l'inserimento di Gomez, ancora Gomez largo a destra, deve defilarsi, mette il cross dentro, arriva Dezza che sbaglia di fatto, un rigore in movimento e spreca l'occasionissima per il 2-2, minuto 71 tornano i padroni di casa ad offendere in azione personale, Klopp brucia Gomez, viene toccato in aria per il direttore di gara, questo è calcio di rigore, arriva allora la grande occasione per l'isola di Capo Rizzuto di chiudere definitivamente la partita, sul dischetto si presenta Lentini che col destro batte per la terza volta in questa gara a Zampaglione, un gol quello di Lentini che mette una seria ipoteca sul match quando nei minuti di recupero c'è un lancio in profondità, ancora a servire Lentini che calcia e trova il gol, non basta la deviazione di Zampaglione per evitare l'ennesima rete dei padroni di casa, finisce così infatti al Sant'Antonio, 14esima giornata del campionato di eccellenza calabrese, l'isola di Capo Rizzuto batte 4-1 la Palmese.